ciao eccomi qui a un altro video di tour della gratitudine ora vi faccio vedere un'altra cosa per cui sono immensamente grata adesso vi faccio vedere scendo un attimo e qui potete vedere questo immenso guardate la mia mano immenso soffione è bellissimo è soffice ha un colore delicato è perfetto è strutturato grande quindi grazie grazie che esisti ciao